Riva Band, buona sera, ciao, Niccolò Pantaleo, saxophone, al pianoforte, ve lo dico prima, è bravissimo, mister Francesco Rosso Paglianulo, è bravissimo, è contante, al contrabbasso, cretino, lo devi girare di qua, mister Vittorio Bruno, e ad una batteria minimal, mister Renato Ci siamo molto vicini, dobbiamo continuare almeno una ventina di minuti per questa operazione Ci siamo quasi, se è ancora freddo lo sento, fammi sentire, ah no, se è freddo, venga No, è vero lo sento, è vero lo sento, no, se è ferma, però era un uomo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.